C'è nel sito incontra Marco Lesmo, Director Technology Services e supporto di Hewlett Packard Enterprise Italia. I servizi tecnologici di supporto rappresentano una pietra migliare, un fiore all'occhiello della proposizione di Hewlett Packard Enterprise in Italia e nel mondo ovviamente. L'essenza di questa organizzazione è racchiusa nel nome. Vediamo un attimo. Ci occupiamo di servizi di supporto ma il termine è forse un po' vecchio. In realtà adesso siamo orientati alla customer satisfaction, quindi il nostro ruolo è supportare i clienti che hanno acquisito le nostre infrastrutture nel ciclo di vita dell'infrastruttura, quindi dall'installazione al supporto alla manutenzione sulle nostre ma anche su quelle dei nostri competitor. E introduciamo servizi innovativi quotidianamente, quindi abbiamo servizi molto interessanti, sempre più disponibili per i nostri clienti finali tramite i nostri partner. Ecco, quindi lei ha citato servizi innovativi che avete innestato proprio di recente e che sono oggi anche ad appannaggio dei partner. Vediamone alcuni. Il principale e quello centrale nella nostra strategia si chiama data center care, cioè ci occupiamo della vita del data center, curiamo il data center, quindi non è più il tradizionale servizio sul server, sullo storage, sul networking, ma su tutta l'infrastruttura, scalando anche verso la parte, diciamo, middleware applicativa. Quindi ci occupiamo di anche i software di terze parti, quali possono essere Red Hat, SUSE, i vari software di Microsoft e accompagniamo il cliente nella gestione di tutto il suo ambiente. Quindi citiamo altri. Flessible Capacity, che mi sta particolarmente a cuore, anche perché probabilmente siamo gli unici che offriamo in questo momento un servizio di tale natura, come dice il nome, i clienti possono acquistare capacità. Quindi come si acquista l'energia elettrica e si paga per il consumo, in questo caso si paga per l'infrastruttura. TOT si usa, TOT si paga. Questo servizio, come il precedente che citavo, data center care, appannaggio anche dei nostri partner, che possono quindi offrirlo e portarlo verso il mercato. Quindi partner, abbiamo visto centrali, partner S&B. Vediamo un attimo all'interno dell'organizzazione che ruolo giocano. S&B è un mercato importantissimo per l'azienda, per H&E Packard Enterprise nel mondo, in Italia in particolare. Sappiamo tutti che S&B o PMI, come chiamiamo normalmente in Italia, sono il cuore del nostro sistema paese e quindi per noi sono ovviamente importanti. Abbiamo un'organizzazione dedicata a questo mercato, che porta tecnologia e servizi dedicati a questo tipo di imprese. Noi lo raggiungiamo solo tramite partner di canale, 100% modello tramite partner di canale e quindi servizi di cui parlavo prima, data center care, flexible capacity o, ne cito un altro, OSS, operational support services, ovvero la possibilità di manutenere da remoto l'ambiente dei clienti, che particolarmente per le PMI che magari non hanno strutture IT sofisticate o dimensionate per gestire questi ambienti, si possono affidare a noi tramite i nostri partner per l'erogazione di questi servizi. Vediamo allora qualche servizio innovativo di frontiera a cui sta guardando ovviamente H&E Packard Enterprise, un'azienda che in genere anticipa i tempi. Sì, sta bollendo tanto, diciamo, in pentola, quindi siamo molto attivi su quello che si chiama Composable Infrastructure, quindi queste infrastrutture molto dinamiche che si possono montare e smontare, quindi abbiamo partnership con Docker, con Chef e quindi stiamo introducendo questi servizi, però adesso diciamo ancora di nicchia, nel senso che non sono molto diffusi, ma sempre più lo stanno diventando e sempre più saranno a pannaggio anche dei nostri partner di canale. Chiudiamo allora con dei numeri relativi all'organizzazione e magari qualche novità, visto che ce ne sono rispetto a questa attività dei servizi. Sicuramente. Cominciamo da questa seconda parte, alla fine di maggio, quindi pochi giorni fa abbiamo annunciato il nostro secondo trimestre dell'anno fiscale che è andato in modo molto positivo, siamo tornati a crescere come azienda su tutti i business, in tutte le geografie, quindi siamo molto soddisfatti e contestualmente abbiamo annunciato un'ulteriore operazione di focalizzazione della nostra azienda, è uno spin-off and merge, quindi abbiamo separato, separeremo in realtà perché avverrà il 31 marzo del 2017, separeremo le attività che in questo momento sono sotto la divisione Enterprise Services, che confluirà appunto in un merge con una società che si chiama CSC, comunque molto nota nel settore, per costituire una forza nel puro settore dei servizi, servizi infrastrutturali, di outsourcing e applicativi, quindi un'altra tipologia di servizi rispetto a quelli tecnologici che continueranno a rimanere in Hewlett Packard Enterprise e saranno il terzo operatore a livello mondiale di questa tipologia di servizi, quindi questo è molto importante per il futuro dell'azienda, rimarrà Hewlett Packard Enterprise con la sua offerta service storage e networking, con tutti i servizi a corredo e col software, sempre più focalizzati, sempre più veloci per portare innovazione ai clienti. I numeri, posso parlare di quelli dello scorso anno fiscale, siamo molto contenti, numeri molto positivi, in particolar modo SMB e Canale con crescite veramente interessanti, doppia cifra e la prima cifra è un due, diciamo, quindi cifre molto importanti. Quindi l'investimento sul canale e sull'SMB continua, per noi è centrale e ci auguriamo di avere sempre più successo con loro. Grazie. Grazie a te.